Sì, sicuramente sono le carri più belle da giocare, perché giochiamo il campo basso che credo insieme al Notaresco in questo momento è la squadra più forte del girone, quindi sono sempre partite belle da giocare. Il Pineto va bene, in questo momento sta bene, sicuramente quest'anno è un campionato strano, perché col fatto che si gioca domenica, mercoledì, tutte le settimane, magari arrivi in qualche partita che non hai la brillantezza delle altre. Abbiamo fatto il pareggio a Agnone, sicuramente sì, potevamo fare meglio, però comunque abbiamo affrontato una squadra che non è la stessa delle altre partite, non era l'Agnonese che aveva i quattro punti, sicuramente si è rinforzata ultimamente, quindi un punto che comunque ce lo prendiamo. Domenica noi andremo a campo basso a fare la nostra partita, noi vogliamo fare punti, sicuramente sappiamo che c'è da lottare all'ultimo minuto, perché sicuramente il campo basso è una squadra molto forte, però noi andremo lì per fare la nostra partita. I loro sono giocatori importanti per la categoria, oltre al reparto offensivo, ma proprio nel complesso, tutta la squadra, sicuramente ottimi giocatori, sia dalla difesa, dall'attacco. Dove si può arrivare? Noi cerchiamo di dare il massimo partita dopo partita, per cercare di arrivare in una posizione migliore, sicuramente è un campionato strano questo, perché siamo stati fermi più volte quest'anno, comunque abbiamo una squadra importante per la categoria e cercheremo partita dopo partita di arrivare il più in alto possibile.